Carissimi amici, come state? Spero tutto bene, spero che tutti quanti voi stiate bene Niente, sto facendo questo video perché voglio tornare a fare video su questo canale Qui su PalinoTube Optional, praticamente non ho fatto più video da non so quanti mesi Sto facendo soltanto video shorts tutti i giorni Però vorrei proprio tornare a fare quei video belli editati Dove metto lì che registro, poi metto ad editare e carico il video In effetti, in realtà non è che non sto proprio facendo video Perché come ben sapete, no? Ho altri due canali Ho il canale principale PalinoTube, che ormai siamo quasi 100.000 iscritti Ma che roba, ma io vi ringrazio davvero tanto E poi ho anche il canale PalinoTube Plus, che anche lì sto facendo video quasi tutti i giorni alle 17.05 Però qua su questo canale di per sé non ho più fatto video da tanto tempo Sia anche per i motivi che vi ho spiegato, no? Vabbè, lo sapete, ho già fatto dei video in precedenza nei miei discorsi Vi ho già dato tutti quanti i problemi che ha avuto questo canale Però vorrei tornare a farci video Ma non videogameplay Non so se voi vi ricordate, molto tempo fa vi avevo accennato La voglia di voler fare video all'aperto Dove andavo in giro a fare le cose, a divertirmi Quella, no? Ecco, finalmente, che adesso stanno arrivando le belle giornate, no? Perché qui adesso che sto registrando qui fuori c'è un sole bellissimo Vorrei proprio approfittarne per andare fuori all'aperto A divertirmi e a registrare e far video Così, no? Anche se ci sono dei momenti belli da condividere Ma ben volentieri ve li porto, ben volentieri Quindi voglio tornare a far video E ovviamente non saranno video tutti i giorni come facevo qua in passato Quando facevo video tutti i giorni Anche perché se sono video all'aperto E quelli sono un po' più difficili da registrare e anche da fare Mentre i gameplay mi metto lì, gioco Tutti i giorni, carico il video ed è fatto Invece con quest'altra tipologia è un po' più difficile Tra l'altro, come potete ben notare Oggi non sono vestito in modalità normale come faccio di solito i video Ma sono praticamente con i capelli un po' così Che tecnicamente dovrei pure tagliarmene E poi una maglietta che uso per casa Quindi questa è quella maglietta che uso quando sono a casa in questi giorni Quindi non sono neanche quella maglietta da youtuber Dunque, voglio tornare a far video come ho detto prima Non video gameplay ma video magari i vlog che vado in giro a divertirmi Quella, tra l'altro quest'anno vorrei pure fare delle belle vacanze Visto che adesso come ben sapete Finalmente stiamo tornando alla normalità A poter viaggiare e muoverci quella E vorrei approfittare anche di quelle vacanze Per fare qualche vlog Così da farvi vedere magari qualche posto bello che vado a visitare Quindi niente, fatemi sapere se questa idea vi piace Fatemi sapere se ci sarete anche a supportare questa cosa qua Per quanto riguarda invece i video shorts Quelli ci saranno sempre So che molti di voi mi commentano sotto Che i video shorts sono cringe Lo so in realtà Sono sincero anche secondo me sono abbastanza cringe Però, cioè, piacciono Cioè, comunque piacciono Perché non farle Poi comunque anche io mi diverto lì a farle Perché, cioè, che motivo avrei di smettere di farle A me diverte farle Quindi li porto bemo le tiri Ci saranno sempre anche quelli Tutti i giorni Però per quanto riguarda video normali E lì, vabbè, quando potrò Li farò, eh Perché comunque non è che posso sempre andare in giro Tutti i giorni a vedere posti belli È praticamente umanamente impossibile Anche volendo fare Non è per nulla ancora fattibile E sto registrando sto video da telefono Infatti ho la mano che Guardate, ormai è mezza stanca Per tenere il telefono in mano E ce l'ho anche abbastanza pesante Quindi è più che normale Niente, dai Ci becchiamo allora Su tutti i canali Mi raccomando Iscrivetevi anche al canale principale PaninoTube Dove lì stiamo per raggiungere i 100.000 iscritti E iscrivetevi anche al canale PaninoTube Plus E rimanete anche iscritti su questo canale Così appena ci saranno nuovi video Li pubblicheremo Sì, vabbè Li pubblicherò Scusate, non so più parlare Non faccio video da tanto tempo su questo canale Quindi automaticamente Il PaninoTube optional Non so più parlare come una volta Ah, ecco Ve lo soltanto aggiungerei questa cosa qua Come piccola precisazione Riguardo alcune serie che facevo Come ad esempio Due Death Wars È una serie che ho portato Molto spesso su questo canale È stata praticamente per molto tempo Anche la serie principale Ecco La serie di Due Death Wars Verrà fatta sul canale PaninoTube Plus Quindi Per gli amanti di quella serie Andate ad iscrivervi a quel canale Che molto presto Tornerò a fare video di quel gioco Anche lì su quel canale Che tra l'altro Ne ho già pubblicato uno Un po' di tempo fa Quindi se ve lo siete perso Andatevelo a rivedere Tra l'altro c'è pure stato un nuovo aggiornamento Di Due Death Wars Con la nuova grafica Quindi Non vedo l'ora di Portarvelo Nel canale PaninoTube Plus Qui invece vi ricordo Che farò i video Ma non saranno collegati Con i gameplay Invece gli shorts Ci saranno sempre Niente Devo soltanto Fare questa piccola precisazione Va bene Dai ci si becca Durante i video Ciao E passate tutti quanti voi Una bella giornata